In questo scenario alternativo, l'Europa avrebbe potuto subire le conseguenze più dirette della non accettazione della teoria della relatività. Considerando l'importanza cruciale della fisica nella corsa agli armamenti e nello sviluppo della tecnologia durante il XX secolo, un ritardo nella comprensione della fisica nucleare avrebbe potuto ridurre significativamente l'innovazione in questo campo. Ad esempio, la Germania, che all'epoca era un centro nevralgico per la ricerca fisica, avrebbe potuto non emergere come tale, alterando i percorsi della scienza e, di conseguenza, della tecnologia militare. Senza l'accelerazione dello sviluppo delle armi nucleari, il risultato della Seconda Guerra Mondiale avrebbe potuto essere diverso, con impatti a catena sui confini nazionali e sull'influenza politica in Europa e oltre. Negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, la corsa allo spazio e il conseguente sviluppo di missili intercontinentali avrebbero potuto subire ritardi significativi o prendere direzioni completamente diverse. Questo avrebbe potuto non solo influenzare la supremazia tecnologica e militare ma anche alterare le dinamiche della Guerra Fredda, potenzialmente modificando la distribuzione del potere globale e i blocchi di alleanze internazionali. Senza i progressi derivati dall'accettazione della teoria della relatività, come la tecnologia dei satelliti e le comunicazioni globali, il mondo avrebbe potuto vedere uno sviluppo economico molto diverso. L'industria delle telecomunicazioni, che oggi dipende in modo cruciale dai satelliti per le comunicazioni a lunga distanza, avrebbe potuto evolversi lungo linee meno efficienti e più costose, influenzando il commercio globale e la globalizzazione. Le innovazioni in campi come la medicina, grazie alla tecnologia nucleare per la diagnostica e il trattamento, avrebbero potuto essere ritardate, limitando l'accesso a cure salvavita e rallentando il progresso medico. L'energia nucleare, che oggi fornisce una quota significativa dell'energia pulita, avrebbe potuto essere sviluppata in ritardo, costringendo un maggiore affidamento sui combustibili fossili e alterando i percorsi verso l'indipendenza energetica e la lotta contro il cambiamento climatico. L'assenza dell'accettazione della relatività avrebbe profondamente influenzato non solo la scienza e la tecnologia ma anche la cultura e la società. L'arte, la letteratura e il cinema, che spesso riflettono e esplorano le scoperte scientifiche e i loro impatti filosofici sulla nostra comprensione dell'universo, avrebbero potuto seguire traiettorie molto diverse. Movimenti artistici ispirati in parte dalle idee di relatività, come il surrealismo, che esplora concetti di realtà alterata e prospettive multiple, avrebbero potuto non emergere o svilupparsi in modi significativamente diversi. In ambito educativo, la formazione in fisica nelle scuole e università avrebbe enfatizzato approcci più tradizionalisti, potenzialmente soffocando l'innovazione e la creatività scientifica. Questo avrebbe avuto effetti a lungo termine sulla capacità di una società di produrre innovazioni e su come i giovani vedono e comprendono il mondo attorno a loro. Le implicazioni politiche di un rifiuto della teoria della relatività si estenderebbero ben oltre la scienza e la tecnologia. Le strategie di difesa nazionale, la diplomazia internazionale e le alleanze politiche sarebbero state influenzate dall'assenza di armi nucleari o dalla loro comparsa ritardata. Le superpotenze avrebbero potuto trovare alternative per proiettare il loro potere, forse enfatizzando più direttamente le forze convenzionali o sviluppando altre forme di armamenti. Senza la corsa allo spazio e l'impulso che ha dato alla collaborazione internazionale in campo scientifico e tecnologico, le nazioni potrebbero essere diventate più isolate, con un minore incentivo alla cooperazione globale. Questo avrebbe potuto influenzare l'emergere di organizzazioni internazionali e trattati globali, alterando la struttura della politica mondiale. Confrontando questo scenario alternativo con la realtà storica, diventa evidente quanto profondamente la teoria della relatività di Einstein abbia influenzato non solo la scienza ma anche l'evoluzione sociale, culturale e politica del XX secolo e oltre. La sua accettazione ha aperto la strada a innovazioni che hanno trasformato il mondo in modi che erano inimmaginabili all'epoca della sua proposta. Dai progressi nella fisica nucleare alla nascita dell'era spaziale, dalla medicina moderna alle telecomunicazioni globali, l'impatto della teoria della relatività permea molti aspetti della vita quotidiana e della geopolitica globale. Questo esercizio di riflessione evidenzia non solo l'importanza della scoperta scientifica per il progresso tecnologico ma anche il modo in cui la scienza può plasmare profondamente la società, la cultura e la politica. La storia della teoria della relatività è un promemoria del potere delle idee per cambiare il mondo.